salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale io sono dragon rex e siamo qui pronti a continuare l'avventura in questo resident evil hd remastered il primo titolo di una lunga saga che fa voi che fare porteremo in collaborazione con il mio cavo amico deus panzer 3 tv che anche qui oggi qui con noi ciao panzer bentornato sul canale ciao dragon rex grazie ancora per questo invito sono contento di partecipare a questa saga di continuare con te questo questo progetto o questa avventura lunga e niente mi sto divertendo e niente non ho niente da dire al momento lascio la parola a te va bene grazie panzer allora ragazzi prima andava avanti visto che dobbiamo affrontare un paio di boss ma infatti ci abbiamo già gilla armata di fucile ricordo che gli episodi recent evil li troverete anche sul canale di panzer troverete il link in descrizione ricordo anche che su twitch il cavo panzer già da un po fa le live di giochi vetro quindi chi è interessato con il link in descrizione può andare a seguirlo su twitch detto questo cavo panzer siamo si procediamo andiamo siamo morti di controllo zombie visto capita anche a noi nell'episodio precedente anche a me va bene dottor è capitato però siamo riusciti poi a fare tutto quello che dovevamo fare allora io volevo controllare una cosa del codice giusto dottor io vado qua perché volevo dire un attimo se il problema che ci dava nell'episodio precedente fossero i colori delle cose sperando che non ci siano ragni allora questo è rosso sì vabbè no erano le palline che dovevo andare a vedere quindi scendiamo giù cioè andiamo al tavolo di biliardo lì ecco qua allora il 3 rosso il 5 giallo no aspetta il 3 è rosso il 6 è verde il 5 e giallo e giallo rosso verde giallo rosso verde giallo perché sono quelli colori giusto sì perché qua c'era il il verde ok quindi rosso verde giallo giusto e ok quindi ce l'andiamo a fare strada facendo di là a meno sbocchiamo la porta esatto strada facendo esatto ok che fa beve dottor e certo bravo bravo beve beve sia bene ok ok andiamo 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 con la nostra gil e va qui se non sbaglio allora facciamo sta porta qua perché l'altra volta non me l'ha data quindi allora ah vedi qua mi da il giallo e giallo eva dottor 5 5 qual verde 6 3 poi il 3 ecco mi ha cambiato la combinazione se non ci fosse il panzer tedesco qua con la notte no no già era però come le dicevo io qua ci abbiamo roba qui ma prendiamo qualcosa che dici no non serve me lo ricordo avanti va bene allora andiamo a fare il boss dai veloce veloce andiamo a fare la piantella la piantina lì vai vai buon divertimento dottor buon divertimento la ringrazio dottor allora devo andare di qua certo vai arrivati che però ma mi raccomando si contenga col boss allora andiamo qua lei spera che mi ammazzi dica la verità dottor no ma non voglio essere così cattivo con lei ecco già ci ha colpito di male sali 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 però non c'è stata la scenetta dottor o mi sbaglio non mi ricordo dottor aspetta ok basta è bastato ora di curati bastardo ok è che cacchio bastardo ancora sai che non ce la facciamo sto giro oddio siamo pure caduti ci ha fatto cadere dottor siamo messi male se mi prende un'altra volta mi ammazza ho maleo si impallao na 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 ho maleo si impallao na 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 no cavolo ok forse l'abbiamo fatto è morto beh perchè non è morto maledetto aia sono messi male vai 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 no niente comunque vado a vedere se ci sono delle cure dottor aspetta fermo e niente è morto e ci ha fatto male vada salve ragazzi allora ovviamente la pianta ci ha ucciso però siamo tornati più cassuti ho portato un pochino più di vite e anche il lanciagranate non si sa mai però ci proviamo con con il pompazza giusto panzer si pompazza e lanciagranate quindi sono pronte a essere usate si però vediamo prima col pompazza se riusciamo a ucciderlo si spicci eh brava già ti sei fatta colpire vabbè è anche lenta saliva ok ehi già sta a morire brava vabbè non siamo ehi ehi guarda là come siamo messi ok non ci ho fatto nulla è tutto barossa ok vai vai eh cavolo niente eh dai dai vai ok è quasi ci vediamo quasi questo non l'ha preso vai eh che cazzo l'ha detta no via via l'ha detta pianta è tosta ragazzi è tosta eeeh guarda che bastarda beh sai una cosa equipaggia va la può andare proprio di prepotenza ha voto le ha voto le balle ecco vai 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 no beh perché 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 non l'ha preso prova a avvicinarti di più eh vabbè niente vabbè abbiamo spiegato tre colpi a occhio abbiamo usato tutte tre le cube dotto eh che cavolo maledetto l'avamo fatto dotto eh meno male è stata tosta me l'ho spiegato due tre incendiarie lo vuole rifare se no no vabbè tanto le incendiarie ci servono più di tanto non le abbiamo usate prima america non l'abbiamo usata nel caso nel caso le possiamo usare dei boss sì vabbè tre ce ne abbiamo non c'è niente questo no c'è niente no c'è la chiave per l'altro boss dotto e dosta la chiave il cammino dottor cammino ecco ok chiave la villa perfetto è stata tosta ragazzi eh perché gil non è proprio chris sei tu il mastro di chiave intanto dottor abbiamo preso il trofeo meno male allora qua mi sa che abbiamo fatto tutto sì ok esca esca da qui torniamo alla villa va bene esco da qua eh sì deve tornare alla villa sì sì usciamo di qua e andiamo a fare l'altro boss sì andiamo a fare anche l'altro boss senta per l'altro boss come siamo messi con questo 19 ok ah qua c'è la cura spero che me la piglio questa che ne abbiamo spiegato tre ne abbiamo spiegate è barossa pigliala ok dottor qua è fatto non c'è più niente da fare giusto sì io tornerai alla cassa che abbiamo di là così prendo almeno un'altra cura sì che succede Wesker Jill so you're safe that's what I was going to say I apologize it was all I could do to protect myself against those strange creatures I understand anyway it's good that you're safe did you notice Barry sounded a little flaky now that you mention it yeah I'll keep a close eye maybe it's quite natural under these circumstances it's not really our standard operation Jill our first priority is to get out of here I agree there are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up I've been looking for ways to ok if there's anything I'll go back to the other mansion I'm counting on you ok abbiamo parlato con Wesker come l'ha detto abbiamo parlato con Wesker ah mo si perché che ho detto Wesker ho detto no non l'ha detto sì ho detto vabbè allora qua abbiamo fatto finalmente il boss della pianta sarà tosta come sarà tosta però ma io allora a sto punto a sto punto dottor vadi a a vado a a posare la lancia granate per poi intanto io quasi quasi farei un salvataggio che dici tu no vabbè no lo so dimmi tu mi conviene salvare no non serve non serve anche perché poi dobbiamo vabbè se no nel caso fallo dai con con lei tutto no perché più che altro con Jill allora questa la prendiamo la prendiamo pure un'altra non si sa mai allora combina no allora la lasciamo quella 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 la lasciamo tanto noi troviamo altre anzi ce ne aveva un'altra di là vabbè non fa niente lasciamo mettiamo qua allora si due cure possono andare bene ci dobbiamo portare qualcos'altro che dice lei no soltanto soltanto il nostro inchiostratore e andiamo il nostro inchiostratore salviamo salviamo dici e tanto allora tanto da adesso in poi troviamo altri quindi questa no ma anche di se non erro anche di munizioni anche le granate allora salvo qui salvo si ok così andiamo avanti a fare l'altro boss che era il serpente giusto dobbiamo tornare alla villa dobbiamo tornare si quindi usciamo di qua eh vabbè per oggi devi lasciare vabbè devi lasciare gli inchiostri però vabbè dai andiamo di qua ah qua c'eravamo le altre piante qua pure vado dottor si vai vai andiamo va torniamo alla villa spero che non penso che escano gli hunter adesso giusto no usciranno proprio adesso ecco bene saremo davvero bene allora e lei te li chiama e loro vengono all'appuntamento eh no lo sa perché perché con Chris Chris era molto più semplice uccidere i nemici i cani i cani i cani via 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 mamma mia con Jill invece è molto più difficile invece con Chris era semplice uccideva tranquillamente con lei non lo so comunque poi qua ci dobbiamo tornare cosa si è così mi ha detto che me stanno avvelenare questo torna indietro torna indietro aspetta controlla prima controlla prima che faccio torna indietro torna indietro vai all'ascensore avanti questi maledetti serpenti sono fastidiosi devono dammatturare eh 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 sì sono fastidiosi sono fastidiosi le stavo le stavo dicendo che adesso eh anzi non adesso più avanti poi dobbiamo tornare per andare avanti con la storia ok adesso mi scusi eh non ha sentito dottor dobbiamo proseguire con la storia no? eh però qui dicoci dobbiamo tornare ah sì qua sì ci dobbiamo tornare lo so eh che cai sempre quello eh eh ma sono innamorati dottor eh bisogna prenderne atto eh però questa volta mi ha preso solo uno vediamo attenzione ah questo mi ha fatto proprio male bene dottor torno alla villa io dottor eh vada vada immagino che mi aspetteranno gli hunter felice felice ma dai dai bene vada 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 dottor vada la nostra Jill dimmi che c'è qualcosa qui ecco lo sapevo grande bella quant'è bella roba guarda vai prendiamo tutto batteria forse perché gliela avevamo forse che l'avevamo lasciato là no 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 qua stanno anche i proiettili non ce la faccio neanche a portare tutto usa una cura e amen si è vero posso anche usare una cura una cura in effetti anche se mi dispiace consuma un'altra cura comunque usiamo questa se almeno siamo più tranquilli oltre che difendere devi anche attaccare si 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 allora dobbiamo andare adesso da qua da qua giusto? andò va no no allora dall'altra volta ok se ne zuppa e pambagna l'embley l'embley ma lo dobbiamo prendere eeeh se le vuole no 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 lascialo là ci dobbiamo tornare no appunto ecco attenzione non penso che funzioni tanto comunque torniamo alla villa dottor la nostra villa che ci mancava eh visto quando è bella e eccala adesso scappa scappa oh mamma mia via via sono scappato eh ma ha sbagliato la via eh lo so che devo far via devo andare all'altra porta giusto? eh se le vuole eh ecco qua visto? meno male eh quello mi veniva addosso dovevo scappare per forza oh siamo tornati al posto nostro oh che cavolo porco giuda no bastardo come salta aia bastardo no non muovire e spavagli ecco ma vivo facciamo una cura va sei morto? comunque come fucile questo è più scarso rispetto al fucile d'assalto eh sì quello sì l'ho notato sei morto? sì ci aspettava come come uno gnorri scusi eh ma si sa che lei ama morire così un beletto però non so comunque lo ucciso ha visto? lo so allora qua eh allora lasciamo un po' di roba va sì che dici prendo la pistola a suo punto? no no dobbiamo affrontare il boss dobbiamo affrontare il boss eh sì il problema è che abbiamo pure poca poca munizione amen ecco sì sì l'è contento giusto? eh certo ok vabbè l'è contento buon pallino così almeno si chiude in anticipo la prima la l'altro il gioco che dici andiamo da su andiamo? mi faccio vedere andiamo da su no andiamo da giù deve tornare indietro deve tornare indietro da dove è venuto fare zig zag tra gli hunter e andare nella hall bene vediamo se si passa da qua la maniglia è stata riparata ah ecco l'hanno riparata chi è che l'ha riparata questa maniglia? vorrei capirlo io io lo so chi è lo so anche io chi è eccolo lo so anche io chi è eh che cavolo vattene vai veloce ok no no bella bra eh eh qua dobbiamo tornare alla cosa sono riuscito a divincolarmi eccolo la sua eccoli mancavano i cani è morto? eh papà ecco anche i cani è morto? si si vai vai eh però mi ha sprecato un proiettile eh vabbè pensavo che mamma io come è rimasto male qua c'era qualcosa da raccoglio o sbaglio? no vai 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 all'altro allora ok e va qui no già ok vai no l'abbiamo preso già no si le prendemmo già all'inizio ok mamma mia dottor siamo con pochi proiettili quanti quanti munizioni abbiamo per il pompa 13 13 in tutto credo credo di farcela credo credo che ce la possiamo fare vabbè io adesso devo andare nella hall e dobbiamo andare dal serpente giusto? si quindi devo salire esatto esatto ok qua c'è ancora lo zombie non sei andato lo zombie da qua vai vai veloce veloce vediamo se il nostro zombie amichevole di quartiere c'è ancora non c'è non c'è è sparito anche lui no? eh beh peccato però lo vedrà però lo vedrà da me a breve ah ok tu da qua Eva? si stia attento stia attento allo zombie allo zombie all'altra ah ma lì c'è il crimson head allora io devo andare se non sbaglio entrato di qua sempre dritto sempre dritto alla porta delle scale sulla destra della mappa giusto? quella in fondo quella blu io ok si dobbiamo andare di là bene proviamoci ah siamo ancora qua ok andiamo 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 a post mamma mia oltre oltre a essere oltre a essere watch out man anche come si dice hai visto come l'ho superato di velocità anche dribblah man la devo chiamare dribblah man eh l'uomo dribblatore allora adesso andiamo dove andiamo andiamo da qua da qua ok cavo dottor ormai qua quando è che si mette gil non ce n'è per nessuno eccoci è sempre ma è sempre preso da me andiamo dottor che dice come siamo messi a cura se ci abbiamo due se lei vuole possiamo andare se lei si vuole fare una grigliata intanto sembra mangiare parliamo vabbè un po' di filetto di serpente o una grigliata di zombie ecco devo scendere ancora ma va oh ci sono le cure qua una la prendo mi prendo anche l'altra ovviamente e me la combino non si sa mai dottor eh beh ci sta comunque adesso quando prenderà quando arriverà il quando arriverà il serpente dopo che l'ha battuto dovrà prendere un libro si si lo so se lo ricorda oh cavolo ma ma come eh dottor deve scendere eh lo so che devo scendere dottor vai vai mamma mia quanto è bello il suo serpente eh l'ha ferito parecchi dottor eh attenzione eh parecchio si prendiamo questa dove cazzo spari tu altro dottor mi sta deludendo eh mi scusi prego non c'è di che faccia e giro faccia vaga l'aspetto faccia e giro via via porco giuda scaviota ola no non c'è porco giuda tutto se se non spara cosa magna eh ho capito no ok comunque io codo quando lei non dal non dal meglio perché vedo che le ha difficoltà con gil si ti dico la verità con gil si sto avendo odio i serpenti davvero pesi trofeo sto avendo tante difficoltà con gil allora io sono contento a le spalle di sta libreria dottor lo so che lei è contento dottor io lo so eccolo qua ok ok l'ultimo ultimo libro volume 2 ok preso mo dottor lo deve apribero dobbiamo esaminarlo giusto ma certo allora oh dentro il libro è nascosta una medaglia mo la medaglia del lupo ho trovato l'ultima ok va bene ah no a lei il tridente a me il lupo capisci a me capisci a me vabbè comunque adesso dobbiamo dobbiamo tornare indietro assolutamente dobbiamo andare ad aprire la porta che sta dall'altra parte del save al primo piano dove ha ucciso il lanter dottor quindi dobbiamo tornare indietro vede quella porta eh buonanotte vabbè buonanotte dica dica mica non abbiamo più proiettili dottor vede quella quella porta rossa che in tutto il costo c'è il colore della mappa esterno non ho capito la porta rossa vabbè vada esca da qui la porto io dai avanti posso uscire da qua eh no 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 devi tornare indietro non la fa non la fa ok torniamo indietro allora il problema è che abbiamo tre proiettili di questa del fucile dottor è contento si ma tanto poi si troveranno eh ma guanno siamo leggermente in difficoltà e io godo allora vediamo scenda scenda dobbiamo fare tutto dobbiamo ripassare di nuovo da quelle dobbiamo ripassare di nuovo da quegli zombie no quando arriva alla porta vada vada dritto per dritto perché diciamo che una volta ha avuto fortuna vediamo speriamo che c'è che ce ne andiamo bene su gil tutto dritto tutto dritto come se non ci fossero domani in modo sportiveggiante va 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 come direbbe qualcuno ecco appunto salutiamo il collega oddio sto andando bene giusto sì 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 vada vada dove va il gil io qua sto sto qua apposta eh appunto eh meno male buonanotte buonanotte dragon rex perché è simpatico che è lei io sto sto andando dottor mi scusi certo vadi vadi intanto io sto lurcando anche una life oddio devo tornare alla hall stè va qua deve 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 ok torniamo alla hall il problema è che non ciò deve andare non ciò poi deve andare deve andare nella strada in cui ha incontrato prima i suoi amati cani eh 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 salut ah devo tornare di là quindi devo salire al primo piano certamente bene mi fa piacere essere contento con i cani però questa volta non mi hanno ammazzato visto dottor eh grazie a cosa dica 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 dove va deve scendere devo scendere giù no sai com'è io l'ho io la la indirizzo da qua ma ho detto io andiamo al primo piano ho detto di si eh questo è primo piano ah quindi dobbiamo andare di qua giusto no dove va no a destra a destra a destra dottor qua eh ah devo uscire proprio ho capito eh o se no aspetta o se no aspetta fammi ricorda eh no torna indietro torna indietro beh da lì torna mi mi scusi eh ma lei mi fa pure rimbambire eh quindi dove andiamo a porta al fianco dottor a porta al fianco a questa si hai usato la chiave della villa ok andiamo oh qua che ci abbiamo un document documento scritto a mano senza alcuna data non è cambiato niente non ne ho immaginato questo la va 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 si vai vai continua una specie di organo interno non si capisce se vi avvigino male o animale ok oh ok vieni verso di noi vieni verso di noi oh ok vieni vai girati e vai sempre dritto da qua giusto si dove stiamo andando ok andiamo 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 dai gil dai abbiamo pochi foglietti dottor oh cavolo attento mamma mia come l'ho mancato allora allora prendi eh prendi pure il pugnale prendi pure il pugnale prendi l'oggetto che sta sulla libreria e scappa ok ok a post a post fa tutto che ho visto tu eh non mi ha preso lo zombino qua vabbè adesso qua abbiamo fatto tutto qua mi sa si possiamo tornare indietro allora giusto mo si mi fa vedere un attimo l'inventario gentlemond ecco allora per il momento dobbiamo andare a posare la medaglia la cura e la cura vabbè l'erba verde possiamo lasciare e l'innasto incestratore si questo lo dobbiamo esaminare non c'è bisogno per adesso no dobbiamo prendere la gemma che andiamo a prendere adesso ok dottor esco da qua allora se le vuole andiamo andiamo a prendere e poi allora quindi torno da questa parte giusto dottor si vai dai dai gilla che fa mi sbadiglia dottor eh mi scusi io sono andato da qua eh veramente vorrei andare a cambiare ma una domanda da dottor ma lei lo farebbe un'altra puntata o no mi dica lei vediamo dottor vediamo senta sono andato bene giusto da qua incontro di nuovo gli hunter si 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 quasi ci sono di nuovo gli hunter ma perché eh vabbè cerca di evitarli ne eh hai detto niente mamma mia via mamma mia uh questa è stata di un pelo proprio un pelo quanto è bello quanto è bello ok vai mamma mia di un pelo ragazzo di un pelino ok c'è un altro hunter qua che mi aspetta no ok no 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 l'ha ucciso prima no torna lì vai lì vai lì vai lì dove qua apri la porta eh eh sì e dovevo lasciare le cose non male che no ma mi aspettavo che ci fosse un altro hunter nascosto pronto a colpirmi l'ha ucciso vabbè ma se mi trasformo io in hunter dottor non si preoccupi allora il portagioia qua lo possiamo lasciare ha detto no 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 eh lo lascialo lascialo mi ha detto prima dottor veda lei sì allora no la medaglia anche qua dica dica sì allora no il portagioia rimettilo e e e e e e metti nel baule metti nel baule gli altri ingestratori va bene dottor ok vabbè ti ricordo volendo lei vuole salvare o no mi sa che chiudiamo l'episodio perché comunque già siamo oltre i 40 minuti l'unica cosa che volevo fare a prendere questa erba rossa ok così la combino con questa ok sì io direi che che diamo qui l'episodio dottor perché comunque abbiamo fatto quasi un bel po tanto qua abbiamo affrontato i boss quindi abbiamo fatto un bel po di cose quindi facciamo un altro salvataggio e chiudiamo l'episodio ok così chiudiamo per adesso può andare bene e io quasi quasi salverei qua dottor che l'avamo salvato prima tanto è sempre nello stesso episodio che dice va bene ma sì tanto che ci frega ma eh sì tanto l'abbiamo fatto va bene così no tanto tanti salvataggi su ecco allora ragazzi ehm l'episodio finisce qui abbiamo affrontato due boss con un po' di difficoltà però ce l'abbiamo fatta ehm spero che l'episodio vi sia piaciuto se è così mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale per supportare la serie attivate la campanellina per essere sempre aggiornati seguitemi anche sulla pagina Instagram e sul canale Twitch trovate il link in descrizione trovate il link in descrizione anche dei canali YouTube e Twitch di Deus Panzer il quale saluto grazie Panzer per essere stato ancora grazie a te grazie a chi ci seguirà per questo video anche per chi per i video precedenti e non e grazie a tutti alla prossima ok grazie Panzer detto questo ragazzi noi ci vediamo al prossimo episodio di Resident Evil HD Remastered e quindi ciao a tutti